Tutti i nostri istruzioni, facciamo così. Il riferimento è la decisione finale. Mi dico un esempio. Non un esempio, per favore. L'ultima settimana aveva dato un off-site. E' stato chiaro, un centimetro, ma era chiaro. Un centimetro è chiaro? Sì, è chiaro. Sì, è chiaro. No, scusate, un centimetro non può essere. Questo settimana aveva 3 centimetri off-site e non aveva dato un off-site. Non c'è chiaro. Non c'è chiaro. Non c'è chiaro.